sisalpoker.it, real poker, real fun Ok, ok, ok Un torno lungo, ho gestito abbastanza bene con dei momenti di fortuna e dei momenti di sfortuna come questa mano finale però la soddisfazione di aver partecipato a questo IPT è importante per quanto riguarda me stesso e il team di, diciamo, dei giocatori di Poké Star Team P&D ai quali partengo Che figata di serata Vediamo di venire sempre Che figata di serata Felicissimo, non lo aspettavo Che figata di serata Siamo al tavolo di televisione Che figata di serata Domani il tempo di intervista Ciao Ed, mi sono illuso il mio sogno continua, continua a illudermi Speriamo che vada bene Saluto mia moglie, ti amo Ciao amore Le serate così Non dovrebbero mai finire Buonanotte alla gente che si sa divertire Le serate così Non dovrebbero mai finire Buonanotte a tutti Ciao